Un saluto dal Tg della mobilità. Per uno sciopero indetto dai sindacati Filt CGL, Filt Cisle, Wiltrasporti, UGL FNA e Faisa Cisle, martedì 1 giugno, dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 sino a fine servizio diurno, saranno possibili stop sulla linea ATAC e Roma TPL, interessati bus tram metropolitane e ferrovie Roma Lido, termini Cento Celle e Roma Nord. A rischio anche le corse delle linee bus diurne programmate oltre le ore 24, per quanto riguarda i bus notturni, il servizio delle linee di bus N sarà a rischio nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno e sarà invece regolare nella notte tra l'1 e il 2 giugno. Sempre dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, a livello regionale, possibili disagi sui bus Cotral. E tutto appuntamento alla prossima edizione.